Ciao a tutti e benvenuti alla Masterclass di SQL Server Express. È una versione di SQL Server gratuita che potrete andare a scaricare dal sito della Microsoft ed installarla ed utilizzarla senza nessun problema. Non serve l'acquisto di nessuna licenza per poterlo utilizzare. Allora, cosa vedremo in questo corso? Vi darò la base per poterlo utilizzare un po' in tutte le sue forme. Partiremo con la prima parte in cui andremo ad installare il software. Quindi partiremo proprio con che cos'è SQL Server. Quindi nella prima lezione capiremo che cos'è nel dettaglio e capiremo che cosa offre. Poi partiremo a fare il download dei componenti che ci servono per poter utilizzare il SQL Server al meglio. Quindi scaricheremo SQL Server, il Manager Studio che è il tool che ci permette poi di lavorare con SQL Server e i driver ODBC che sono quei driver che ci permettono poi con tool esterni di connetterci all'interno del SQL Server. Poi faremo la parte di installazione sempre delle tre componentistiche. Quindi lo faremo proprio insieme e vi accompagnerò passo a passo su questa procedura. Così con la prima parte andremo a configurare tutto il nostro sys ambiente di lavoro. Nella seconda parte partiremo con i primi passi. Quindi inizieremo a creare il database, vedremo come fare i backup, i ripristini, la completazione dei database. Creeremo la prima tabella, importeremo dei dati da SQL Server con un CSV che è esterno ad esso. Creeremo una libreria per contenere i pacchetti di tabelle che andremo a creare in modo da avere un ambiente ben strutturato e con delle logiche ben definite che andremo ad approfondire poi nel corso. E capiremo anche come modificare le tabelle senza, scusate, le librerie senza passare per il codice attraverso le proprietà dello strumento. Nella terza parte, quindi in questa seconda parte capiremo come iniziare a creare le cose all'interno del nostro SQL Server. Nella terza parte andremo a fare un approfondimento sul T-SQL perché SQL Server, Express, funziona con il T-SQL che non è il SQL normale. È un SQL molto più avveluto perché ha delle funzioni in aggiunta, tante funzioni in più che permettono di fare tantissime cose. Però si farà un approfondimento praticamente dei concetti basi delle SQL in modo da rendervi autonomi ad eseguire le operazioni basilari per poter utilizzare un ambiente di questo tipo qua. Quindi faremo una selezione di dati, capiremo come cancellarli, come inserire dati all'interno della tabella, come aggiornare eventuali campi piuttosto che come fare dei truncate o dei drop che sono lo svuota secco di una tabella completa senza cancellare il record per record, è una roba velocissima oppure il drop che cancella proprio fisicamente la tabella e poi eventualmente andrebbe ricreata. Poi si passerà alla parte dei join, quindi sulla parte 4 una volta capito i comandi base andremo a capire come funzionano i join quindi faremo una select con il left e l'inner join quindi vi spiegherò anche che cosa sono i join e capiremo come farla su una select poi faremo un approfondimento di come si può fare un delete se dovete prendere la regola che sta su un'altra tabella quindi vi dovete connettere dalla tabella A alla tabella B e sulla tabella B avete la regola, il criterio che vi permette poi di capire quali record dovete cancellare dalla tabella A quindi capiremo come fare questa cosa qua con il join la stessa cosa lo faremo, faremo quindi l'approfondimento anche con l'update per capire come fare degli update se utilizzate i join e poi faremo una multi query perché con il SQL si possono anche annidare query su query non c'è un gran limite ma diciamo che potete andare in profondità molto e quindi questa è una cosa molto utile per fare determinate procedure senza dover magari ad esempio un access fare 10 query in questo caso potete costruirne una sola che una richiama l'altra e così via nella quinta parte andremo a vedere la parte di sicurezza della nostra istanza di SQL Server quindi creeremo una view quindi ci saranno le tabelle poi c'è un altro ambiente dove si creano delle view che non è l'accesso fisico alle tabelle con i dati proprio quelle dove il dato è storato una view può essere anche un incrocio di n tabelle che vengono assemblate per dare un risultato finale magari per l'utente che poi deve utilizzare il dato quindi potete creare un ambiente poi che sia disponibile per la free analysis magari per gli utenti o anche per voi stessi tendenzialmente quando si va a fare reportistica non si accede mai direttamente alle tabelle si accede sempre alle view perché accedere alle tabelle può portare qualche problema si approfondirà ovviamente durante il corso poi si vede appunto la parte di permessi quindi andremo a capire come inserire i permessi all'interno della nostra istanza e poi capiremo anche come assegnare e che tipo di permessi si potranno assegnare al nostro database piuttosto che alla tabella piuttosto che fino al singolo campo SQL Server permette di assegnare permessi fino al singolo campo di una specifica tabella quindi si può scendere molto in profondità con la gestione dei permessi e potete scegliere ovviamente se dare di selezione di update, di delete, c'è veramente di tutto successivamente andremo con la parte 6 andremo a vedere i vari tipi di collegamento che si possono fare da tool esterni verso il SQL Server quindi modificheremo un record di una tabella con SQL Server quindi partiremo e faremo una modifica di record che abbiamo inserito in SQL Server con Manazone Studio quindi all'interno del SQL Server e poi faremo appunto come vi dizio il collegamento con dei driver ODBC al SQL e poi faremo anche la modifica di un record che sta su SQL però utilizzando Microsoft Access perché magari all'utente non volete dare il tool di Manazone Studio per accedere al SQL piuttosto che l'utente deve mantenere una tabella di input manuale che vi serve per fare delle cose e li preparate un ambiente in Access dove con molta semplicità l'utente fa un doppio clic e aggiorna la tabella per come gli serve senza dover sapere come connettersi al SQL come si fa la modifica manualmente sulla tabella e così via quindi è un'interfaccia che in 448 la mettete su in un secondo poi vedremo anche come fare il collegamento al SQL con i driver OLEDB che andrò a sconsigliarvi di utilizzare che secondo me non è efficace e poi andremo con la parte 7 andremo a concludere la parte di Store Procedure Link Server e Scudolazione quindi capiremo come fare una bulk insert che è praticamente un codice che vi permette di importare i dati all'interno del SQL Server da una fonte esterna ad esempio da un CSV esterno lo abbiamo già visto anche nella prima parte nella prima parte importeremo i dati con una procedura guidata invece qui andremo proprio a farlo con uno script che è lo standard che si utilizza generalmente quando si importano dati su SQL Server poi andremo a creare anche una procedura una Stored Procedure che praticamente ha un insieme di istruzioni che fanno più cose e potete anche potenzialmente andare a passare variabili non lo approfondiremo in questa prima parte ma sono molto potenti quindi potete scrivere dei codici dei lavori, dei job che eseguono una serie di operazioni ad esempio fa un delete e poi fa l'inserimento perché dovete magari mantenere gli ultimi 60 giorni di versamento di quello che accade nella vostra azienda e quelli oltre i 60 giorni li volete cancellare quindi ogni giorno arriva giù il dato nuovo voi fate prima il delete di tutti i giorni più vecchi e dopo fate un inserimento dei dati nuovi quindi questo è il nostro procedure poi faremo un link server che praticamente dal SQL ci collegheremo a un database di Microsoft Access che magari vi può servire capiremo come si fa a fare questo tipo di collegamento così avrete all'interno del nostro SQL tutti gli oggetti che ci sono in Microsoft Access e in un secondo potrete all'interno di SQL Server comunicare anche con questo database quindi è quasi come portarselo in corpo è praticamente proprio un link un collegamento poi capiremo come inserire su SQL Server dei dati utilizzando Microsoft Access quindi ad esempio abbiamo l'ipotetico CSV che è importato su Access e da Access noi lo vogliamo trasferire in SQL Server quindi capiremo come fare questa azione qua sempre in Microsoft Access capiremo come eliminare dati all'interno del SQL Server e poi capiremo come fare sempre con Microsoft Access a lanciare una store procedure all'interno di SQL Server però lanciata dando l'impulso di lancio da Microsoft Access e finiremo con la parte di Microsoft Access vedendo come schedulare un'attività di SQL Server attraverso l'utilità di pianificazione di Windows quindi con lo schedulatore di Windows perché sul SQL Server Express il SQL Server Agent che è lo strumento che promette di pianificare i job, i lavori di SQL Server non è utilizzabile però questo non è un problema è un servizio che lo trovate ma non lo potete utilizzare perché appunto è disponibile nella versione standard e nella versione enterprise però vi farò vedere un trucchetto con Microsoft Access in modo che con l'utilità di pianificazione di Windows andrete poi a lanciare dei database access che lanceranno a loro volta delle cose, dei job all'interno del SQL Server e capiremo come fare questa cosa qua chiuderemo poi la masterclass di SQL Server vedendo un paio di script uno l'ho fatto io che vi permette di monitorare cosa avviene all'interno della vostra istanza di SQL Server e l'altro script invece vi permette di avere subito il risultato di tutti i promessi che siete andati ad assegnare all'interno della vostra istanza senza dover entrare nella directory delle grant e passarvi utente per utente e vedere come l'avete cablato così avete il risultato diretto ok direi che con questo è tutto spero veramente che questa masterclass possa essere di vostro interesse che vi potrà essere utile nel vostro ambiente di lavoro come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel like al video qua sotto e magari condividete questa playlist questa risorsa all'interno dei vostri social così mi aiuterete a far crescere un pochino il canale vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo nel corso della masterclass con le lezioni che andremo a approfondire a presto ciao